Dopo le decisioni assunte lunedì scorso dal Consiglio dei Ministri, ha preso il via ufficialmente il confronto tra il Governo nazionale e la Regione Piemonte per individuare una soluzione che garantisca la tutela della salute e il mantenimento degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni inquinanti, scongiurando il blocco dei veicoli diesel Euro 5 a partire dal 15 settembre. È un confronto tecnico tra i Ministeri dei Trasporti, dell'ambiente...